Ciao raga bentornati sul mio canale youtube Oggi cominciano finalmente le gameplay review dei Toz della Liga che ho provato in questi giorni di Weekend League E devo dire che è stato abbastanza un parto visto che di carte buone ce ne sono Alcune sono una mezza fregatura e partiremo proprio da queste oggi Altre pur essendo buone peccano un po' per quello che è il meta di quest'anno Quindi ve lo giuro che ho dovuto fare una fatica veramente in mane per provare queste carte durante questo fine settimana Oggi ci andiamo a vedere i primi tre giocatori che secondo me sono quelli che hanno deluso di più le mie aspettative Quindi ce le andiamo ad analizzare con un brevissimo recap statistico e poi passiamo come al solito con le clip di gioco che ho registrato per voi Passiamo subito sulla schermatina dove abbiamo Karim Benzema Questa carta come al solito quando l'avevo vista mi ero caricato da aspettative Perché parliamo di un giocatore di 1,85m con un piede destro, 4 di skill e 4 di piede debole Quindi tutti i parametri che diciamo sono al loro posto Tranne il piede debole che poteva essere ovviamente 5 e le skill che quest'anno con 4 si fa un po' di fatica Andando a guardare poi le statistiche avevamo un bellissimo 94 di accelerazione, un bello 87 di velocità scatto Potenza tiro e finalizzazione da top, tanta roba anche i passaggi, 89 di agilità che però già sapevo sarebbe stato un po' inficiato dal 93 di forza e dal 1,85m di altezza Poi avevamo addirittura 99 controllo palla, 98 dribbling, 99 di freddezza Mi ero veramente hypato per sto Benzema Benzema che però poi all'atto pratico quando lo sono andato a testare in game ho trovato Impacciato nel portare il pallone, porta palla più o meno a un metro di distanza dal suo corpo Poco incisivo nelle giocate nello stretto, macchinoso nei movimenti anche quelli di tunnel eccetera eccetera Poco costante sotto porta L'unica cosa che mi è piaciuta di sto Benzema è il suo speed boost perché si speed boost abbastanza bene Di fatti dopo ci ho fatto anche un gol interessante che vi farò vedere Mi preoccupano anche i passaggi perché 99 di corto e 89 di lungo questo deve essere un fuoriclasse Invece mi è capitato che veramente sbagliasse un paio di giocate elementari Quindi Benzema, visto che costa anche tanto, onestamente io gli do un 5,5 Una carta che non vedo titolare all'interno delle nostre squadre A meno che non lo si trovano scambiabile, insomma gli si vuole dare un tentativo Ma molto 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 rivedibile, cari in the dream Continueremo a sognare un Benzema che sia utile su FIFA Secondo giocatore, ambiguo, è questo Fekir Anche qua io mi ero spaventato perché avevo visto Nonostante il metro e 73, il 4-4 di skill e piede debole Il suo body type stocky, quindi un po' paffutello E sapete che body type paffutello vuol dire giocatore ambiguo Perfettamente così, ve lo giuro raga 10 partite, questo io in mezzo al campo non l'ho visto mai Io non ho mai giocato con un giocatore più inutile di questo Sulla fascia macchinoso, non si speedboosta bene Passaggi che nonostante quello che vediamo a livello statistico Non hanno mai inciso più di tanto Non è neanche così veloce e rapido Proprio perché è appesantito da questo body type E anche dal 92 di forza L'89 di agilità non ve lo dico proprio che non si sente minimamente L'87 di reattività già faceva scattare un campanellino d'allarme Perché quando deve portare palla dal piede destro al piede sinistro Non ve lo dico proprio Controllo palla, dribbling eccetera eccetera Su quello lievemente meglio Perché comunque quando corre la palla gli rimane un po' più vicino al piede Però, ripeto, questo Fekir anche mi ha deluso L'ho provato da esterno ovviamente Perché figuratevi se da esterno non mi è piaciuto da seconda punta questo che cosa poteva essere Parliamo di un giocatore che secondo me rispetto a Benzema Diciamo gode di maggiori attenuanti Visto che non costa tantissimo Sicuramente rispetto a Benzema può essere un po' più giocabile Però io rispetto a questo qui Come vedrete poi nei video che usciranno i giorni successivi Preferisco altro E altro si traduce in Carrasco Che in meno partite di Fekir mi ha inciso molto di più E poi vedrete Dopo Fekir Passiamo alla più grande delusione di tutte Raga, forse la delusione più cosciente che io abbia mai provato con un giocatore su FIFA Rafael Varane Questo si presentava come il difensore totale definitivo Un Toti Una sega, raga Una sega Tre milioni e mezzo di giocatore Una sega Solamente Maldini Moments costa più di lui Ma non è vero mai nella vita Cioè per dirvi io non ci ho trovato ste grandi differenze tra Varane Champions e questo Anzi Questo qua l'ho trovato Impacciato nei movimenti Ma ha perso una valanga di contrasti Oppure quando li vinceva Poi faceva sempre in modo che la palla tornasse all'avversario E la cosa mi aveva un po' preoccupato Perché ho detto Vabbè magari sarò io che ultimamente mi sto insomma dilettando un po' all'arma bianca Sto difendendo un po' così e così Stamattina facevo un po' di zapping sulla piattaforma viola Ho guardato un po' Principe Live che stava smadonnando contro questo Varane Diceva ma può mai essere che questo Varane non è buono? Eh sì Questo Varane a quanto pare non è buono Quindi il riscontro che ho avuto io alla fine è il riscontro un po' di tutti credo Ma soprattutto per il rapporto qualità-prezzo Cioè non vale mai tutti quei soldi in più rispetto al Champions Il mio modesto modo di vedere Calcolate che ho beccato in Weekend League Mino Pro player francese fortissimo Al primo minuto mi ha fatto una cappellata Ho messo un babù L'ho tolto Ho tolto Varane Ho messo un babù da difensore centrale super sub Quindi che mi è entrato pure a 5 di inteso Ho vinto la partita 3-1 Cioè non ha proprio senso Vi giuro non ha senso sto Varane E andremo a vedere poi con le clip Che ho registrato Come questo Varane per niente incida Secondo me a livello difensivo O comunque incida poco Come incidono tanti altri giocatori Detto questo Recapino terminato Passiamo sulla schermata di gameplay Dove iniziamo a gustarci le clip di gioco A partire da Benzema Benzema che come vi ho detto È un giocatore abbastanza ambiguo L'unica cosa che mi è piaciuta È questa sequenza qui Bellissimo speed boost Ad andare a punire la difesa in questo spazio centrale Guardate come si è lanciato bene Ha finalizzato anche discretamente E qui devo dire che L'ho apprezzato Per il resto no Guardate qui Passaggio verso Dalglish Benzema un tacco tacco Incespica La palla si allunga veramente troppo Non cerca proprio di andare a superare l'uomo E tira dritto per dritto È come se vi giuro non avesse la possibilità di ruotare gli arti Guardate qui questo passaggio facilissimo nello spazio C'era un corridoio per Dalglish Qui su questa linea di passaggio perfetta Con il difensore che era esattamente a metà È uscita una roba vergognosa Con sto passaggio di Benzema Io utilizzo anche semi Quindi doveva andare perfetto Guardate qui come porta palla a due metri dal suo corpo Raga Qui è giusto perché ero totalmente libero Che sto ottenendo un vantaggio Ma guardate quanto si allunga la palla dai piedi di questo Benzema Qui se ci fosse stato un difensore Avrebbe tranquillamente recuperato Poi vabbè Dalglish fa il fenomeno insomma E finalizza Qui ancora una volta Guardate quanto è lento e macchinoso nel girarsi E ricevere questo facile facile passaggio di Suarez Guardate qua Qui in questo momento Ha la possibilità di poter controllare il pallone Invece fa questo movimento macchinosissimo su se stesso Che lo porta a sbattere contro il difensore avversario Quindi Benzema Vi ripeto A mio modo di vedere Molto 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 rivedibile Qui guardate ancora una volta Il tunnel col quanta fatica Qui un difensore più abile Avrebbe schiacciato il tasto del contrasto Avrebbe recuperato il pallone Su questo primo Su questo secondo controllo Non ve lo dico proprio Lui mi guarda Ok Arrivò lì Tiro segno Però Insomma Niente di eclatante Una sequenza questa di gioco Che se fosse stata difesa meglio Non si sarebbe tradotta in un gol per Benzema Che come vi ripeto Io ho trovato un giocatore modestissimo Nulla di eccitante Nulla che secondo me vale quel prezzo lì Andiamoci a vedere Adesso Fekir Vedete sulla fascia Fekir quello che vi dicevo in precedenza Guardate lo speed boost Quanto è modesto Rispetto a quello che insomma ci aspettiamo Guardate qui Si speed boosta Gli rimane tranquillamente a contatto Cancelo Che mi stava per portare via il pallone Gli è passata qui la palla sotto le gambe Qui ancora una volta Guardate Guardate questo primo controllo Quanto si sia allungato il pallone Fekir Fekir a distanza dal suo corpo Favorendo l'intervento del bambù avversario Quindi Non lo so Fekir sicuramente Fa parte di quelli che Ripeto Tra tutti Mi sono piaciuti Mi sono piaciuti meno Per poi arrivare a mettere la ciliegina sulla torta Ragazzi Ciliegina sulla torta Rafa il Varane Come vi dicevo Guardate qua Questo penso sia l'unico intervento Mezzo umano Che mi ha fatto Ma anche in questa situazione Fa l'intervento Ma guardate la palla Quanto è distante Non si attacca mai Il pallone Dopo il contrasto Cosa che invece succedeva Ad esempio con quel Fofanase Vi ricordate Settimana scorsa E anche con il suo compagno di reparto Quondé Che vedrete Probabilmente Tra domani E dopo domani Quindi questa Praticamente unica sequenza Che ho messo Per dargli un po' di Diciamo onore A questo Varane Perché adesso inizieranno A succedere cose un po' Annus orribilis Guardate qui Varane totalmente in vantaggio Schiaccio Sia il tasto del contrasto In precedenza E rimane immobile Allora arrivo qui Voglio schiacciare il tasto Del passaggio Non mi fa niente E addirittura Si fa portare via del pallone Cioè Qui Se non mi registri il comando Io voglio capire tutto Siamo perfettamente d'accordo Però mi devi andare Quanto meno a mettere il fisico davanti Non mi puoi fare questa animazione qui E fai prendere palla A Neymar Che è un anetto E tu eri in 10 metri di vantaggio Quindi Qui Veramente Già iniziavo a sbarellare Per non parlare di queste altre sequenze Guardate qua Vado E un'altra volta è marcatura su Neymar Raffondo il contrasto Ma che contrasto è Modestissimo Guardate la palla Com'è tornata a Neymar Cioè Veramente inutile Guardate anche qua Contrasto Con la palla che un'altra volta Non rimane incollata Al piede del difensore Rimbalza E deve arrivare Quonde in diagonale A chiuderla Ma la cosa più grave La inizierete a vedere In queste ultime sequenze Perché guardate qua Davanti all'uomo Cantona Che non è un Questo grandissimo Attaccante agile Faccio il contrasto Fa un'animazione strana Si pianta su se stesso Rimane fermo Si fa sbattere il pallone addosso Meno male che Yashin Insomma ci mette Ci mette una pezza Questa poi È il capolavoro finale Rodrigo salta il portiere Varane si mette Davanti E poi si sposta Si sposta Facendo passare questo tiro Praticamente In porta Autogol Qui viene addirittura Registrato Questa Questa conclusione Tant'è vero che al fine Primo tempo Il mio avversario Aveva 0 tiri in porta Ma una rete Quindi Una roba veramente Allucinante Quindi raga Ricapitolando Un po' Quella che è la situazione Su questi giocatori Ripeto Benzema Secondo me Voto finale 5 e mezzo In ottica anche del rapporto Qualità prezzo Fekir Gli diamo un 6 Di stima Varane Per me bocciato Voto 5 Totale Perché un giocatore Che costa 3 milioni e mezzo 2 milioni e 9 Quanto l'ho pagato io Su Xbox Sceso poi a 2 e 6 Perché secondo me La gente si sta iniziando A rendere conto Che poi forse La spesa non è così worth Non può minimamente Commettere errori Così banali E ripeto Per fortuna Non è una cosa Diciamo isolata a me Ma l'ho riscontrata Anche nella live Di Principe E di qualcun altro Leggevo su Twitter Che erano un po' Perplessi Dal comportamento Generale Di questo giocatore Fatemi sapere voi Che ne pensate Come al solito Nei commenti Vi ricordo di iscrivervi Al canale In descrizione Trovate le info Per le live giornali Sulla piattaforma Viola Vi ricordo Domani e dopodomani Vedremo altri giocatori Se sono più o meno 7 Se non erro Perché probabilmente Li ho provati quasi tutti Tranne quelli ambigui E quelli stra top Come Messi E nulla Un salutone Buona domenica E buona festa Della mamma Ciao ciao